Buongiorno a tutti cari amici, ascoltiamo il Vangelo II, Luca, capitolo 18, versetti dal 35 al 43, in questo lunedì 20 novembre. Mentre Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono passa Gesù in Nazareno. Allora gridò dicendo, figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Quelli che camminavano avanti, i loro improveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino gli domandò, che cosa vuoi che io faccia per te? Egli rispose, signore che io veda di nuovo. E Gesù gli disse, abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio e tutto il popolo vedendo diede lode a Dio. Il Vangelo di oggi ci racconta un episodio avvenuto a Gesù mentre si avvicinava a Gerico. Gerico è la città che si incontra per prima quando si discende dalla Samaria a Gerusalemme, quindi quando si va verso Gerusalemme. È la prima città che si incontra proprio in Giudea, nella regione di Gerusalemme. Venendo dal nord, lungo la strada quindi il maestro si imbatte in questo cieco, in questo personaggio che sentendo dalla gente che in quel momento stava arrivando, stava passando il maestro, non potendo partecipare a questa processione, non potendo partecipare, comincia a gridare. E qui è interessante la reazione di quelli che accompagnavano Gesù, che è una reazione di fastidio, tanto che sgridano il cieco e gli dicono di tacere. Osserviamo questa scena, il grido del povero non viene tollerato, viene messo a tacere. Perché? Perché mette immediatamente la gente di fronte all'ingiustizia. È così, il grido di chi soffre arriva sempre dritto al cuore e fa male, come un pugno che colpisce il volto, richiama sempre la nostra coscienza. Non possiamo nasconderlo. Ancora oggi il grido dei poveri colpisce la nostra società, la nostra sensibilità. Non vogliamo sentirlo il povero. Pensiamo ai mendicanti, ai rifugiati di guerra, ai malati, a tutti quelli che si trovano sul campo di guerra e ai migranti anche. Che male hanno fatto queste persone innocenti? E noi che cosa facciamo? Gridiamo insieme a loro la nostra preghiera al Signore oppure facciamo come questa folla che non vuole sentire quel grido, non si ferma nemmeno ad ascoltarlo quel grido, anzi impone di tacere. Forse spesso per paura facciamo come questa folla, ma Gesù non ha paura. Gesù si ferma, anzi obbliga tutti coloro che avevano manifestato questa disapprovazione, questo fastidio di fronte al povero, obbliga a fermarsi con lui e anzi ad aiutare quel povero cieco ad andare verso di lui. Così il cieco guarisce e Gesù dichiara anche il motivo di questa guarigione che il cieco ha ottenuto, la fede. Gesù dice a questo cieco la tua fede ti ha salvato. Questa fede così forte che ha saputo vincere tutti gli ostacoli che aveva intorno. Ecco così come questo cieco anche noi quando ci troviamo in situazioni di ingiustizia da soli e marginati da tutti, quando non ci ascolta nessuno, ci sentiamo umiliati, ecco possiamo gridare verso Gesù, possiamo gridare come questo cieco al Signore Gesù e sappiamo che lui ascolterà, lui si fermerà, ci guarirà e ci darà la grazia di incamminarci con lui verso Gerusalemme, cioè verso il compimento, come ha fatto questo cieco. Allora oggi iniziamo questa giornata con la gioia di sapere che comunque siamo, se siamo ricchi come questa folla, se siamo poveri come questo cieco, la fede in Dio ci può guarire la vista, la vista interiore, può farci vedere il povero che grida, può farci luce sulle nostre povertà, permettendoci di seguirlo fino alla fine, portando a tutti coloro che incontriamo questa nuova luce nel nome di Gesù. Buona giornata!